Buonasera, 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 al centro c'è il nostro grandissimo dottor Giuseppe Buonasera, 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 sì, grazie Ciro, allora per i pochi anche ancora non lo conoscono e poi però Ciro ti cedo la parola per spiegare un po' come vi siete conosciuti, come è andata la storia visto che l'hai vissuta in prima persona insieme al dottor Giuseppe Ossolengo, allora Giuseppe, il nostro dottor Giuseppe Ossolengo è il precursore del flucco nazzuolo per uso in Italia diciamo così, però cedo la parola a te Ciro che sicuramente riuscirei a spiegarlo meglio Vabbè innanzitutto lo dico con grande orgoglio che Giuseppe è un campano, cominciamo specificatamente diciamo così un casertano e quindi un giorno, un bel giorno, per mia fortuna lo incontrai praticamente presso il negoziante sponsor Giovanni Cartone e già da lì a poco notai la sua peculiare professionalità perché da come osservava i coralli, le sue osservazioni Io giustamente che ho sempre pensato che bisogna sempre imparare da chi ne sa, mi avvicinai, mi presentai, dissi buongiorno, io sono Ciro Murino, sono il fondatore, all'epoca era un gruppo che era nato da un anno, eravamo sette, ottocento iscritti, una cosa del genere e Giuseppe praticamente con grande disponibilità, cominciò a spiegarmi varie cose, insomma ci mettevano loro a parlare e di lì poi praticamente non so come venne a quell'argomento sulle alghe e disse no io veramente sto sperimentando un farmaco, Fugonazole, Fabriopsis, ma tu che stai dicendo? Io oggi sono andato nella vasca, effettivamente avevo un cubo bellissimo e per causa dell'abriopsis fu costretto a smontare, ma tu che dici? Tu vuoi dire? Eh sì, qua, là e poi magari nei dettagli ci spiega adesso il dottor Giuseppe Ossolello, però brevemente voglio dire questo cioè alla fine praticamente questo Fugonazole effettivamente è stato proprio l'iraditì, è stato un toccasano inizialmente ci hanno anche deriso, poi ci hanno copiato insomma come c'è un detto di qualcuno che diceva prima li tenetano, poi li combattono e poi vinci, una cosa che è questa, no mi piace sta cosa qua, cioè su Fugonazole prima con le alghe Brioopsis e Terbesia si è dimostrato molto efficace, poi praticamente addirittura ci saranno qualche successo con la Valonia, però mi sembra poi magari il dottor Giuseppe spiega in dettaglio, qua addirittura ci sono stati dei acquariofili che per puro caso, mentre utilizzavano Fugonazole per le alghe, avevano dei pesci che avevano praticamente in maniera endemica, in maniera come dire cioè ce l'avevano perennemente, i puntini addosso, l'olino e vedevano che sparivano e infatti poi dopo questa cosa la menzioniamo e poi in ultimo abbiamo un gas eclatante di cui parteciperà personalmente l'iscritto Ciro Cappielli e mostrerà anche con rilievi fonografici prima e il dopo, ma nei dettagli adesso invito il nostro dottor Ossolengo a dire come è venuto a conoscenza e diciamo così ai nostri iscritti del gruppo e di cui attenzione tengo a precisare che Giuseppe Ossolengo è amministratore di Palling Mania, quindi ancora parte integrante di Palling Mania dal 2016, se non sbaglio. Così o no, dottore? Ossolengo? Sì, buonasera a tutti, premetto che è una linea pessima, per cui alcuni discorsi, cioè come dire, discorsi li sento in maniera frammentaria. Quello che ha detto la storia, come ci siamo conosciuti da Giovanni Cardone, io in quel periodo avevo un problema di terbesia e girando su YouTube ho visto questo video in cui questa ragazza statunitense americana spiegava appunto che era riuscita a debellare la terbesia con l'uso del fluconazzolo. Statunitense, vero? Mi sono subito tuffato in questa avventura perché poi siccome vengo da studi, sì, 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 era statunitense e credo sia stato il primo video caricato sull'argomento, almeno comunque poi girando anche in rete, su Google, digitando, non c'erano riferimenti, l'unico riferimento era questo video. E quindi come stavo dicendo, avendo degli studi appunto che ho fatto, un po' di dimestichezza con l'uso del farmaco, infatti non è la prima volta, anche in passato, anche nel dolce avevo utilizzato degli antimicoltici, quindi avevo un po' di dimestichezza, mi sono subito tuffato nell'esperienza. Ed effettivamente ho visto, ho potuto vedere che già tra i quattro giorni le alghe cominciavano a sbiancare e nel giro di 15 giorni praticamente non c'era più. E niente, poi incontrai Ciro con cui appunto gli dicevo di questa cosa e quindi poi Ciro mi ha invitato a rendere partecipi un po' tutta la comunità, visto che sembrava una cosa allora rivoluzionaria. Ma quindi è stato un successo? E quindi vabbè, scrissi l'articolo, poi con il tempo le esperienze... sì, io l'ho sperimentato su di me, è stato un successo. E poi le esperienze man mano col tempo, ma nel giro di mesi, cioè ogni mese che passava c'erano sempre più esperienze a merito, quindi come dire, è stata poi una cosa eclatante, è stata poi riaffermata da diverse esperienze appunto in merito. A curiosità ho cercato di approfondire un po' il discorso, sono cercando di capire attraverso quale meccanismo il floconazzolo era in grado di andare ad inibire la crescita appunto della dermesia, innanzitutto della dermesia e poi anche della priopsis. Ed è praticamente dovuta allo stesso meccanismo con il quale il farmaco inibisce la crescita dei funghi, perché il floconazzolo nasce come antimicotico. Va ad inibire in particolare un enzima che è responsabile della biosintesi degli ergosteroli, che sono delle macromolecole che si trovano nella barriera cellulare, in particolare dei funghi. E poi è stato visto invece che è presente anche in macroalche, nella parete cellulare di macroalche, ma non solo, anche di protozoi e di dinoflagellati. Ed è ben tollerato perché gli ergosteroli non sono a pannaggio delle cellule di animali superiori, quali l'essere umano o i pesci o i coralli che abbiamo in vasca. Ecco da dove proviene poi la buona tollerabilità, dal fatto che nelle cellule eucariotiche degli animali superiori non è presente l'ergosterolo o meglio gli ergosteroli, visto che si parla di una famiglia di macromolecole, ma l'analogo è il colesterolo, la cui sintesi non prevede diciamo l'entrata in funzione di questo enzima, che è una 14 alfa demetilasi, noi non sintetizziamo gli ergosteroli, ma abbiamo l'analogo nostro, il colesterolo, che segue tutta un'altra via. Quindi questo è un po' diciamo il meccanismo attraverso l'analogo. Purtroppo la comunicazione non è delle ostie. Comunque sono 3-400 persone che hanno utilizzato un fluconazone, se vado a braccio durante questi anni. Certo c'è stato qualcuno che dice che non ha risolto, però io con onestà intellettuale posso dire che almeno il 90% ha risolto con successo e questo è un dato di fatto. Però poi ultimamente, da un anno a questa parte, poi ce lo facciamo raccontare da Giuseppe Solemmo. Giuseppe, ci sei? Pronto? Mi sentite ora? Sì, adesso siete. Ho troppo una connessione pessima. Allora stavi dicendo... Non so nemmeno a che punto sono arrivato. Al colesterolo. In effetti è ben tollerato, perché praticamente anche per uscire... E dove sono arrivato? Parlami praticamente di similizzare... Ah ok, sì, 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 praticamente del meccanismo d'azione. Sì. Pronto? Sì, continuo. Sì, 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 ti sentiamo. Mi sentite ora? Sì, ti ascoltiamo. Quindi stavo dicendo appunto che è ben tollerato, perché gli animali non hanno l'ergosterolo, ma hanno il colesterolo, che è un'altra molecola, che è un'altra via metabolica, per cui il fluconazolo non è la biosintesi del colesterolo. Quindi questo per quanto riguarda un po' il meccanismo d'azione. Come dicevo prima, gli ergosteroli non sono solo appannaggio di macroalghe, quindi di alghe superiori, di alcune alghe superiori, perché non tutte poi hanno degli ergosteroli sensibili al fluconazolo, tanto è vero che su alcune macroalghe il farmaco irribisce la crescita, mentre su altre no. Questo però è dovuto anche in parte, vediamo il caso dell'Avaloni, siccome il fluconazolo agisce nel momento in cui la cellula si divide, quindi nella fase di accrescimento dell'alga, ovviamente più veloce la velocità di accrescimento dell'alga, maggiore sarà e più rapido sarà l'effetto del farmaco. Magari su macroalghe, tipo l'Avalonia, che ha un accrescimento molto lento, il farmaco impiega più tempo per potergire e quindi magari il trattamento si... Orca miseria. Si è scollegato. Il dottor Solengo stava dicendo praticamente che in effetti c'è questa molecola, il costarolo, che in effetti il farmaco agisce su questa molecola e inibisce la crescita delle alghe aziende che ne sono dotate e specificatamente molto sensibili e dotate a questa molecola sono l'abriopsis e la delvese, le tiene anche la Valonia, però la Valonia siccome è crescita lenta praticamente per risolvere positivamente la distruzione dell'alga nell'alga. E niente, stavamo parlando sempre dell'ergosterola e stavamo parlando della differenza fra la delvese, la briopsis e la Valonia che in termini di crescita e questa crescita praticamente fa la differenza in termini di effetti prodotti dal flucone azzolo. Questo stavamo dicendo. Sì. E stavamo dicendo pure che in effetti poi tu sei stato bravissimo a fare dei dosaggi perché qua alla fine ho il flucone azzolo, ma quando mettere il flucone azzolo? Cioè la tua bravura è stata proprio nel saper calibrare la quantità giusta attraverso i tuoi esperimenti perché tu sei una persona umile, ma diciamole le cose. Cioè qua sei scoperto che avveno male, questo flucone azzolo riproduceva degli effetti. Ma la tua bravura poi è stata a fare i dosaggi. Dosaggi che inizialmente partecipano nel gruppo e poi l'abbiamo dovuto togliere il post perché poi qualche buon dembone si è diventato a segnalarci perché Facebook ha posto il ristrangimento sull'uso dei farmaci. E questo buon dembone l'ha già trattato in Napoletano. Praticamente, perché se uno è un'erforiofina, dovrebbe dare l'istro e dovrebbe dare praticamente mettere da parte per trovare il diatrip. Invece questo buon dembone l'ha segnalato in posto del dottor Ossolino. Per fortuna il tutto è salvato sul nostro sito internet perché sul sito internet c'è l'articolo integrale che poi ci cerca il suo negozio. Invece questo titolo ti venga a sottolineare che oggi abbiamo detto che conazzolo è un farmaco che è un progetto a prescrizione medico veterinario. e quindi nel momento in cui uno decide di utilizzarlo nella propria vasca si deve consultare con un veterinario, faccelo prescrivere e acquistarlo con ricerca. Quindi su questo punto di vista lo abbiamo in Stimido Pecchi, perché questa è la procedura legale per poter accedere al farmaco. Giuseppe, scusami se ti parli. Giuseppe, quello ci hanno anche tolti i post sull'Azoplankton, cioè quello dipende da chi c'è stato all'altro lato di Facebook, quello vedono un farmaco, vedono la regoletta che dice che la regoletta mettono ai farmaci e tolgono il posto. Ma non è perché tolgono solo il posto. Allora si reitera questa dinamica e tu hai fatto qualcosa che va contro il regolamento. Viene di oscurre il gruppo. Poi hanno chiuso dei gruppi e purtroppo noi non possiamo più rischiare. No, 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 no. Poi ci oscurre il gruppo. Infatti abbiamo dovuto ondevitare questo livello di rischio. Abbiamo dovuto togliere, diciamo, non parlare più del suo colazzo nel gruppo e quindi fare riferimento al nostro sito internet www.parlingmania.it dove ci sono gli articoli, tre articoli del dottor Rossolengo. Quindi un articolo sul fulgonazolo per quanto attiene le alghe, un altro sul litio fulgonazolo e un altro dove si evolve l'utilizzo del fulgonazolo al riguardo dell'iniasi. È giusto? Sì. Sì. Però stasera abbiamo un'altra sorpresa. Fra cinque minuti secondo me l'articolo lo dobbiamo ulteriormente ampliare perché poi ci sarà il nostro scritto Ciro Cappiello che anche attraverso delle immagini parteciperà la guarigione, direi, miracolosa di un xanturum che non era affetto da odiniasi. Però, non lo so, magari il dottor... Un amicosi avanti, molto avanti. Un amicosi. Un amicosi. Un amicosi. Un amicosi. Un amici. Un amicosi. Un amico. Un amico. Non so se ci sente, ma preghererei Ciro Cappiello di collegarsi a questo punto. Anzi, noi lo contattiamo. Penso di sì, perché ha salutato il chat quindi dovrebbe esserci. Ci sta seguendo sicuramente. Nel frattempo stanno arrivando nei commenti molte testimonianze delle persone, ve le passo in sovraimpressione, sull'uso appunto del debellare l'erbese, insomma le alghe in generale. Questo è Mauro che l'ha utilizzato con successo. Va via prima dove c'è maggiore luce, questo per esempio è visto che molti fanno l'errore di spegnere la luce oppure di abbassare, invece no, anzi più luce c'è, l'alga più è stimolata da crescersi e più velocemente agisce il farmaco, quindi la luce va assolutamente tenuta accesa. L'ha detto Vocanzi, l'ercosterolo praticamente interagisce proprio in fase di crescita. C'è anche una domanda di Nicolato che chiede se è possibile utilizzare il D-FluoCAN? No, sì, va bene anche la soluzione iniettabile, ovviamente il dosaggio deve essere sempre, la concentrazione deve essere sempre 5 milligrammi per litro, quindi va bene anche la soluzione iniettabile. A meno che però nella soluzione iniettabile c'è l'anestetico. Non vorrei che poi, adesso non so al momento se nella soluzione iniettabile c'è l'anestetico. Dicevo, ho notato nel mercato acquariofilo che anche qualche azienda si sta muovendo nell'uso del fluconazolo, quindi se abbiamo difficoltà a reperire la ricetta potremmo utilizzare uno di questi prodotti. Io ho un prodotto di Flux per esempio, il Flux credo si chiama, esatto, uno è quello della Blue Life che si chiama FluxRx. FluxRx, poi dovrebbe esserci un prodotto della... Comunque vabbè, a prescindere dal nome commerciale, io credo che è vero che uno attraverso internet oggi riesce a rapprovvigionare un po' di tutto, però comunque è un farmaco. In Italia, credo che ancora oggi, sono mai da un decennio, anche in campo acquariofilo ci sta bisogno comunque di tutto, quindi per approvvigionarsene, diciamo è un canale un po' non proprio consono, ci vengo a precisare attualmente il progetto a prescindere il motico veterinario. Abbiamo anche un'altra domanda di Salvatore, se non mi ricordo male, che chiede se può essere utile per la polisifonia. La polisifonia, sicuramente non la conosco, mi informo, posso farla sicuramente sapere. Quindi nei prossimi giorni, attraverso l'alcidemia, magari se possiamo vedere con una medicina oppure una dettaglia, poterlo conoscere. Salvatore, al limite ci sentiamo e ci scambiamo questa informazione. C'è una domanda urgentissima, cosa posso dare a un ocellaris che boccheggia tantissimo e non mangia possibilmente problemi intestinali? Ciro, rispondi tu? Non ho capito a me che stanno parlando. Hanno fatto una domanda in generale. Ciro, forse magari voleva sapere se anche qui è il caso di usare il fruoconazolo, ma non credo che possa essere... Io per quel pesce avrei provato un po' di acqua giugosi di un minuto. E' l'unica cosa che avrei fatto e magari avrei trattato un pochino di backtrin, l'avrei mischiato nel mancino. Questo avrei fatto. Forse quel pesce ha un'occlusione intestinale... Ah, ci lo capite... Buonasera... 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 Posso continuare... Avrei messo una o due gocce di olio di vaselina, ma se avesse un'occlusione intestinale... Questo è quello che si riferisce all'ocellaris che respirava accelerante... Però io sull'epidermide non ho notato puntini... Però può essere pure che aveva qualche fermo nelle brani... Non lo so... Per questo dicevo... Preliminarmente un bagno di olio di napposmosa... A temperatura massimo un minuto... Poi dopo di che si vede... Se il pesce migliora... Se il pesce non migliora... Comunque praticamente... Si può provare... Se mangia... A mettere del backtrin trattato... Quindi polverizzato nel mancino... E si fa un impasto... Ed eventualmente... Praticamente vedere se il pesce... In questo caso è lo fluguanazzolo... Non penso che la presidenza... Possa assortire effetto benefico... Si... Sei d'accordo... Dottor Ossoletto? Si... Anche secondo me... Non... Non... Perché... Non potrebbe essere... Il fatto che... In maniera accelerata... Fa pensare a un problema... Dalle branche... Allora Giuseppe... Adesso ti devo godere... Praticamente i benefici... Che hai portato... All'acquariofilia italiana... Ma non solo... Perché poi siamo stati... Contattati tramite il nostro sito internet... Che è anche il tuo... Per i benefici... Ha portato anche... Diciamo così... Ai pesci... Perché... È capitato... Che per quello caso... Alcuni acquariofili... Hanno... Dosando il fluguanazzolo... Si sono accorti... Che avevano dei pesci... Che avevano in maniera... Patologica... Sempre questi mondini... E praticamente... Ci arrivano... E pregherei... Marco... Vi cominciare a mettere... Qualche testimonianza... Di alcuni pesci... Che erano scelti... E che sono stati guariti... Sì... Sì... Diamo la parola... Metto quelli di Ciro... Prima quelli di Ciro... Qua Ciro... Qua Ciro... Non lo possiamo conservare... Come Cile... Ah ecco... Cilegine sulla torta... Ciro... Allora... Guardate qua... Questo pesce... Era... Questo è il nostro scritto... Che ce l'ha dato... Era affetto da... Da Odinia... Sì... E grazie al fluguanzole... È guarito... È vero... Non è vero... Abbiamo delle testimonianze... Proprio... Dirette... Sì... Ma domanda... Dottor Rossoleggo... Com'è possibile... Che questo pesce... Affetto da Odinium... Questo... Questi... 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 Parastini... Praticamente... Anche noi vino flagellati... E' presente l'ergosterone... Quindi il meccanismo... E' sempre lo stesso... E quindi... Anche lì... Agisce... Agisce... Ma... Chiedo scusa... Ma anche dinoflagellati... Come dinoflagellati... In senso di alghe... Filiformi... Con le bolle... Anche su quello potrebbe... Funzionare... E... Bisognerebbe... Quello bisognerebbe provare... Perché comunque... Dinoflagellati ce l'hanno... Gli ergosterone... Quindi vorrei che... Alla fine... Il fluconazone... Risolvo pure... Dinoflagellati... Credi... Ho pensato... Anche io... Potrebbe anche... Potrebbe anche... Funzionare... Sui classici... Dinoflagellati... Perché c'è l'ergosterone... Dinoflagellati... Anche tu... Marco Pace... Tu sei molte... Dinoflagellati... Già sei quello che... Dobbiamo... Dobbiamo... Sperimentare... Scusami... Giuseppe... Chiaramente... Te li auguro a te... Che ti venga un'altra volta... No a me... 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 Vabbè... Vabbè... Con le... Con le temperature... Qualcuno potrebbe... Comunque... Se c'è qualcuno... Che malaguratamente... Dovesse... Avere il problema... Magari... Se lui è disponibile... Insomma... Alla fine... Fa delle cose incredibili... L'ingredibilità... Adesso ce la partecipa... Ciro Cappiello... Ciro Cappiello... Che... E' come... Tra parentesi... E' come il decino di... Paperon dei Paperoni... E' uno dei primissimi scritti... Dei Balling Mania... Ciro... Eravamo... Quando erano... 70... 80 iscritti... Ciro... Pochi... Io mi ricordo... Guardi... Ciro... Guarda... Eravamo davvero... In pochi... All'inizio... Vabbè... Poi te l'avevo detto... Abbi fede... Vedrai che poi... I risultati li hai... Voi dovete mettere... Tutti in merda... Davanti a Ciro Cappiello... Eravamo pochi iscritti... E' come... Praticamente... Il medico della mutua... Di Alberto Su... C'è... E' il mio portafortuna... C'è... Devo essere sincero... Tutte quelle battaglie... Gente che è andata... Gente che veniva... Lui ha avuto sempre fiducia in me... Lui ha detto... Ciro... Guarda... E mi è rimasto impresso... Una parola... Che ha detto... Ti hai già visto mezza volta... E ho capito... Che persona sei... E non ti devi giustificare... Vai avanti... Io non ti abbandonerò mai... E caro amico mio... Te lo dico pubblicamente... Perché tanto è bene... E per me resti sempre una persona speciale... E proprio perché sei una persona speciale... Quando sei ammalò... Il tuo... Santurum... Io praticamente... Mi collegai... Anche con il dottor... Gege Manara... Che è... Che è un veterinario... E io... Gege Manara... Dissi... Gege... Ma cerchè di salvarsi tu pesce... Praticamente... Ciro Cappello... Per lui mi fanno un miracolo... Perché io... Ciro... Per me è un fratello... E lui disse... A questo punto... Gege Manara... Dissi... Perché non proviamo col fluco anazzolo... E Ciro... Praticamente preso dalla disperazione... Ha utilizzato il fluco anazzolo... Poi andiamo a mostrare... Con le immagini... Il pesce che cosa... Come era combinato... Eh... Ok... Allora... Io purtroppo... Non ho messo le foto... Marco... Guardate... Io purtroppo... Sì... Perfetto... Ciro... Racconta... Racconta... Allora... Ho preso questo pesce da un privato... Che stava dismettendo... E aveva due fori... All'altezza degli occhi... Che si vedono in foto... Eh... Comunque... Questa persona mi disse... Che era... Cosa da poco... Devuto allo stress... Io... Per fortuna... Dato che dovevo inserirlo in vasca... Con Zebrasoma... Io avevo creato una sorta di... Come dire... Eh... Sala a parte... Diciamo... Un vano da 20-30 litri... Che andava... Nell'acquario mio... Praticamente... Lui era... Diretto contatto con... Lo Zebrasoma... E col passare del giorno... Ho iniziato a vedere... Che stava peggiorando... Dai qui... Dai due piccoli fori... Che aveva sull'occhio... E aveva una piccola... Un piccolo... Una piccola escorriazione... Sulla... Sulla zona centrale... Del... Del corpo... Ho iniziato a vedere... Che peggiorava... Ho scritto al mio amico Ciro... Che io ringrazio... Di tutto ciò... Che fa per me... Il quale... Mi ha messo in contatto... Con Gegè Manara... Il quale... Mi ha fatto... Un adiagno... Sinceramente... Io non... Siamo parlando di veterinari... Il dottor... Veterinario... È un veterinario... È un grande veterinario... E lui... Mi ventilò... L'idea di... Mi disse... Di dargli del cibo... Del dottore... Come si chiama il nome? Esatto... E... Mi disse... Di utilizzare... Della pomata... Di flunocazole... E... Mi disse... Di fare... Degli impacchi... Dei tamponi... Leggeri... Di betadine... Dato che io... La pomata... Non sono riuscito... A reperirlo... Ho contattato... Anche Solengo... Il quale... Mi ha indirizzato... Verso... Il flunocazole... E... Le giuste... Eh... Dosi... Da utilizzare... Il pesce... L'ho tolto... Dal mio acquario... E l'ho messo... In un cubo... Da 20 litri... Ho dosato... Aglio... Eh... Eh... Ho dosato... La prima... Compressa... Perché è andata... 215 mg... E... E... Ed è stato lì... Alcuni giorni... L'acqua... Inizia a diventare... Torbida... Però... Inizia a vedere... Qualche miglioramento... Mi ho dato... Più l'aglio... E... Io ho fatto... Un cambio d'acqua... C'è da dire... Che il cambio d'acqua... L'ho fatto... In presa diretta... Con la mia vasca... Dopo vi farò vedere... In che modo... Gestisco l'acquario... Con un cubetto... Eh... Poi l'ho usato... Un'altra volta... Il fluconazzone... Poi praticamente... Ho fatto il cambio... E gli ho messo... L'altra compressa... Ho dato... Il cibo... Che è arrivato... Nel frattempo... Quello che mi è stato indicato... E gli ho fatto... Eh... A giorni alterni... Qualche tamponature... Di betadine... Però senza esagerare... Le fotografie... Prego la regia... A mostrare le fotografie... No ma... Se vuoi c'ho il video... Se riesci... Se riesci a vedere il video... Dovrei avere il video... Sopportabile... Vediamo se sapete... Ah... Ecco... Se riesci a vedere... Guardate là... Guardate... Come stava combinato... Guardate un poco... Cioè... Questo è un miracolo... Giuseppe... Ma tu ti rendi conto o no? Che sei San Giuseppe... O Solengo... Cioè... Ma ti rendi conto di quello che... Cioè... Veramente... Santo... Santo dell'acquariologia... Devevo fare... San Giuseppe... O Solengo... Qua dobbiamo fissare un giorno... Sul calendario... Solo per... Balling mania... La natura di... Balling mania... È chiaro... No... Fatemi finire di parlare... E poi vi faccio vedere... Anche il pesce... C'è da dire una cosa... Che io... Quando ho fatto il cambio... E l'acqua di scarto... L'ho ributtata... Nel mio acquario principale... Perché io... Con dagli stress... Al mio pesce... Ho utilizzato l'acqua... Che era nel mio acquario principale... Ma sono sparite anche le alghe... Tra l'altro... È un grandissimo... L'acqua di scarto... L'hai buttata... L'hai buttata nella vasca... L'acqua... L'ho buttata in vasca... Adesso vi mostro il pesce... Adesso vi mostro il pesce... Magrella... Magrella... L'acqua di l'urdo... Questo... L'urdo... L'urdo... S'andosso l'è... Faccelo vedere... Faccelo vedere... Vogliamo vedere... Vedete il pesce? Faccia un po' con l'immagine... Aspetta... Eh aspetta... Sì... Sto cercando... Guardate... Un miracolo... Anzi... Non è un miracolo... Guardate qua... Ma prendete conto... Come stava pesca... Questo qua... Lo sappiamo... Questo abbiamo fatto anche... Il video con il dottor Basler... Guardate... Incredibile... Incredibile... Guardate... Una cosa a dire... Una cosa a vedere... Quello... Quello era... Coribondo... Quello pesce... Non dire più niente... Guardate... C'è... Quaricione... Completa... Incredibile... Perché... Non sono... Adesso si sente osservato e non mangia... No... Che imbarazzante... Ma si vede che sta bene... Però sta bene... Si sa bene... Queste sono belle soddisfazioni... Queste praticamente... Sono le leve motivazionali... Che mi pagano... I tanti sacrifici... Tante offese... Che ho avuto... Tanti accoltellamenti alle spalle... Tante cattiverie a titolo gratuito... E poi magari... Ecco... Poi vengono questi momenti... E c'ho questo... Partendo di staff... Partendo da Marco Paci... Massimo... Loredana... Daniele... La grandissima Loredana... L'immenso Dottor Rossolelli... Che dico... Va bene... Non fa niente... Ciro... Va bene così... Sei un uomo fortunato... Hai fatto qualcosa... Per l'acquariofilia italiana... Perché tanto come... Dio vede e provvede... Che soddisfazione... Ciro... Una grande soddisfazione... Ah grazie... A me sono cose... Belle... Che mi danno tanta gioia... Queste cose... Tu lo fai per questo... Noi abbiamo capito... E non lo fanno per altri... Capito... Va bene così... Cioè... Sono cose che... Cioè... Mi danno tanta... Una gioia... Innefrenabile... E sicuramente... I miei... Colleghi amministratori... Possono capire... La mia gioia... Innefrenabile... Di avere... Perché all'inizio... Ci hanno anche da riso... È vero no... Giuseppe... Giuseppe... Su Fulgorazzolo no... Ci hanno da riso... C'è una domanda... Chiedono... Il Diflucan... Se... Ha più effetto... Con le temperature più elevate... Tutto quello che può accelerare... La crescita... La velocità della crescita... Delle alghe... Sicuramente... Favorisce anche... Il farmacotipo... Quindi... Siccome vedo... Che comunque... La crescita algale... Si è influenzata... La temperatura... Credo di tutto... Ok... Sì... Perché in effetti... Se alza la temperatura... Dovrebbe aumentare... La rapidità... Praticamente... Di riproduzione... Delle alghe... Quindi... Dovrebbe fare effetto... Più rapidamente... Questo sì... Questo sì... Cioè... Alla fine... Abbiamo scoperto... Che questo fluconazone... Efficace al 100%... Per Derbea... E sempre Opsis... E fino a tre anni fa... Si smontavano le vasche... Vi giuro che... Si smontavano le vasche... O nelle migliori di casi... Si riusciva a tamponare... Con la... Con la mitica... Di Brango... Elisia Crispata... Chiarano... Però... Alla fine... Perché praticamente... Il 70%... Veniva maciullato... Dalle palle... Delle combe di movimento... E sempre che... Riuscivi a trovarle... Tra parentesi... Perché... Alla fine... Erano pressoché... Indrovabili... E... Ricordo... Per onestà intellettuale... Praticamente... Che c'era solo... Alla fine... Praticamente... Solo... La signora Deborah Bastano... Riusciva... Ad avere questi... 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 E anche io... Sono stato un suo cliente... Che me li feci... E infatti... Risolsi... Temporaneamente... Però poi dopo... Spariti i nudi branchi... Praticamente... Li comparvero di nuovo... Comunque... Sempre l'occasione... Per ringraziarla... Perché a suo tempo... Fu gentile... E professionale... E come si suol dire a Napoli... Fa bene... E a ricordo... E fa male... E scordo... Anzi... Ribadisci con tutto il contrario... Fai male... E ricordati... E fa bene... E dimenticati... Detto questo... Volevo dire una cosa... Molto importante... Eh... Giuseppe... Mi stavi dicendo prima... In Pre-Live... Che ha intenzione... Di eh... Modificare un articolo... Quale... Perché? Eh... Quello del... Quello del... Quello del Criptocarion... Eh... Per questo... Perché... Praticamente... Anche nel... Nei protozoi... Il Criptocarion... Il Criptocarion... Da un... Da un... Da un... Da un protozoi... Ehm... Ci sono gli ergosperoli... Siccome le esperienze... Siccome... La patologia... Il Criptocarion... Il Criptocarion... Spesso viene confusa... Perché... Fare i diagnosi... Di un pesce... Malato... Dell'uno... Dell'altra patologia... Non è... Non è... Semplice... Eh... Cioè... Fare... Un prelievo... Analizzarlo... E quindi... Molto spesso... Le due patologie... Vengono... Un po' confusse... E quindi... Il Criptocarion... Il Criptocarion... Sì... Però... Non è... Potremmo... Inserirlo... Come terapia... Alternativa... Ehm... Comunque... Da provare... Sì... Ma... Tecnicamente... Quindi... La logica... Non mi abbandona... Quindi... Tecnicamente... Questo Fugonazzolo... Troverete in pieco... Anche per quanto riguarda... Quelle patologie d'acquare... D'acqua dolce... A questo punto qua... Eh... Sì... Sì... Sicuramente... Insomma... Praticamente... Giuseppe Ossolengo... International... Nel frattempo... Ha fatto un altro miracolo... Si è migliorata... L'attuale internet... Perché diventa... Nitido... Davvero no... Avete notato? No... Ma io ho cambiato dispositivo... Ah... L'iPad... Che mi sta abbandonando... Adesso sto... Ah... L'iPad... Infatti adesso va benissimo... Adesso... Immagina... È nitida... È fluida... Sì... E quindi... Volevamo dire questo... Allora... Allora... Davolo... Puoi partecipare... Se è possibile... L'articolo del dottor Ossolengo... A riguardo delle... Delle alche... Che abbiamo pubblicato... Sul sito internet... Per farlo vedere ai neofili... È possibile? Adesso no... No... Adesso non ce l'ho caricato... Lo devo cercare... Non... Non è una cosa immediata... Ah... Ecco... E niente... Praticamente... C'è il nostro Marco... Che vuole porgere... Delle domande... Al nostro... Amico e collega... Eh... Di staff... Ossolengo... Beh... Innanzitutto... Va bene... Ringraziarlo... E... E... Volevo dire... Che a questo punto... Si è... Effettivamente... Efficace... Sia con l'odiniasi... Sia che... Con il criptocalion... Possiamo dire... Che quando... E... Vediamo un pesce... Con dei puntini... Riusciamo a curarlo... E quindi questo... Non è... Non è poco... Se poi... A questo... Dobbiamo provare... E sperimentare... Anche per i dinoflagellati... Eh... Credo... Insomma... Che... Abbiamo coperto... Io penso... Il 70-80%... Dei... Dei più grossi problemi... Delle vasche... Io volevo... Esatto... No... Dopo cedo la parola a Massimo... E Massimo... Mi ha fatto fare... Una grande riflessione... No... Da buon... Settentrionale... Piemontese... No... Dice... Ciro... Guarda... Ne abbiamo fatto tante live... Con degli esperti... Di fama internazionale... Tu addirittura... Piando per la contentezza... Quando si fece... Con Hans Werner Balling... Perché per me era un dio... No... Cioè... Io mi ho chiamato... Il gruppo... Palling Mania... Mi trovo a Cospetto... Quanz Werner Balling... Con fondatore... Romero Tobano... Per me è stata una giornata... Dice... Ma a volte lo sa che... Cioè... È vero che... L'erba del vicino... È sempre più vera... Tu ti rendi conto che ne abbiamo... Giuseppe Ossolengo... Praticamente nello staff... Cioè... Ti rendi conto... Diceva Massimo... Grazie a Giuseppe... Che cosa abbiamo risolto... Che cosa... Valore aggiunto... Abbiamo apportato... Non al gruppo... Ma all'acquariofilia italiana... Perché... Fino allo scannimento... Siamo stati noi... Di Balling Mania... Grazie... A Giuseppe Ossolengo... A portare in Italia... Questa metodologia... Che stava devastando... Il pesce di Ciro Cappieri... All'acquario... All'acquario... Giuseppe Ossolengo... Ce l'abbiamo noi... E Giuseppe Ossolengo... Tramite Balling Mania... Ha introdotto... In Italia... Questa metodologia... E poi... Praticamente... O ribadisco ancora... Fino allo scannimento... Perché... Quando ci vuoi... Ci vuoi... Si è scoperto... Che è utile... Per l'odinia... Si è scoperto... Che è utile... Anche per questa... Forma di micosi... Che stava... Devastando... Il pesce di Ciro Cappieri... E quindi... Alla fine... Sono cose... Diciamo così... Queste sono... Come dire... Le soddisfazioni... Massimo... Volevo dire... Un onore... Massimo... Volevo solo... Volevo solo aggiungere... Che... Con il discorso... Che ha fatto Ciro... Praticamente... Noi abbiamo... Abbiamo in casa... Un... Un massimo esponente... In... In fatto di... Di farmaci... Comunque... Essendo... Essendo... Dottor Rosolengo... Anche... Un farmacista... Ed è... Esperto... Ed è... E lui sa... Esattamente... Grazie alle sue ricerche... Grazie... Alla conoscenza del farmaco... E... È riuscito... A portare... Nel... Nel gruppo... Un'esperienza... Che... In Italia... Era ancora... Poco conosciuta... Grazie a questo... A questa scoperta... E a queste ricerche... Eh... Come giustamente diceva Marco... Eh... E... Si riuscirà... Probabilmente... A coprire... Il... E a risolvere... Il 70%... Anche l'80%... Visto che comunque... Sono problemi... Molto... Pesanti... Quando... Sopraggiungono... In una vasca... E... Secondo me... Riusciremo... A... A portare... A buon fine... E... A risolvere... Tutti questi tipi... Di problemi... Non nascondo... Che... Anni fa... Io ho perso... Completamente... La vasca... Per... Per i puntini... Dei pesci... Quindi... Avevo... Una ventina di pesci... Ha già... Di... Importanti... Dimensioni... E... All'epoca... Se si sapeva... Una cosa del genere... Evitavo... Evitavo... Di perdere... Tutti questi animali... E... Quindi... Per me... È... È... Una cosa... Molto importante... Perché... Comunque... Ripeto... Abbiamo... 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 Riusciamo... Già... Abbiamo... Abbiamo... I... Giapponicus... Eh... Il Giapponicus... Che è comunque... Un pesci molto... Molto delicato... Quindi... Sono pesci che... Eh... Senza... Questo tipo di trattamenti... Eh... Sarebbero spacciati... Ma poi... Non dimentichiamo poco... L'acquariofero... Che faceva... Incominciava all'epoca... Non cominciava a sovradosare gli odiodupors... No... Perché... Giustamente... Triplicava... Quadruplicava... Insomma... Le provavano tutte... Alla fine... L'unica cosa che succedeva... Che poi... Oltre a morire tutti i pesci... Saltava pure la vasca... Perché aveva... Sopradosare... Insomma... Giuseppe... Non ti rendi conto... Tu quello che hai fatto... Questo flucone a sola... Cioè... Io praticamente... Ti vedo con una reola... Dico... Ma qua... A me sei un santo... Cioè... Sei un santo crallo... Sei una soddisfazione... Cioè... Non lo so... E... 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 Vabbè... E... Lui disse... Ciro... Io per impegni professionali... Ti sento... Giuseppe... Ma non mi resta porto all'ambiente... Tu devi rimanere in tuo staff... Per quello che è posto... Ecco... E... Perché... Lui... La presenza di amministratore... Nel gruppo di Ballini Mania... Disse... E infatti... Lui... La persona umida... E per bene... No... E chi se ne va da Ballini Mania... Io rimarrò sempre... E così è stato... Io volevo... Mi fa piacere... Mi fa piacere condividere... Ecco... Ecco... Ci sei un grande... Mi dispiace... Ma... Sempre il solengo... Ma onorato... E... E dai... Dite... Ditelo pure voi... Partecipate pure voi... Certo... Certo... Mi inchino davanti al dottor Giuseppe Soletto... Senti... C'è... Ecco... C'è una domanda di Alberto... Che dice... Un ipotetico sovradosaggio in vasca... Che... Che... Cosa può portare? Oppure un sottodosaggio... Che cosa può portare? Che cosa si intende questo dosaggio? Eh... Dieci milligrammi magari... Dieci milligrammi d'intro magari... Posteri... Posteri anche per far fare i nostri barri... Ci sono... Eh... Quaranta... Cinquanta... Eh... Non so... Giuseppe... Veramente... Mi ricordo... Non mi ricordo il cognome... Ma... Ma ci fu un iscritto che il raddoppio è il dosaggio per la Valonia... E poi dopo un mese... Riuscire a teppellarla... Ma abbiamo uno solo un caso... No vabbè... Ma io penso che pure a dieci milligrammi non dia problemi... Dipende da quant'è il suo dosaggio... Ovviamente come segno potrebbe essere comunque un malessere da parte... Il mercato dei pesci... Dei cristani... Quindi sì... Eh... Nei prendessero tanti riguardi il scotto dosaggio... No... Credo che... Eh... Non è... Non è consigliabile... Pure perché... Perché voglio dire... Se noi sappiamo che a 5 milligrammi il farmaco funziona... Non dà problemi... L'unica cosa... Magari il costo... Il risparmio... Il risparmio... Il risparmio... Il risparmio della terapia... Questo è giusto... Però poi ci rispia di non... Di fallire... Da quel punto... Do a più 2 milligrammi... E poi devo mantenermi... Al di più... Al di più... Al di più... Poi magari funziona anche a 2 milligrammi... Questo non lo sappiamo... Sappiamo che a 5 però funziona... E quindi... Ok... Perfetto... Io ho visto... Su qualche forum... Americano... Che qualche... Qualche membro... Ha utilizzato una dose... Quattro volte superiore... Per debellare la Valonia... Ciao... E... Ciao... Quindi parliamo di... Di circa 20 milligrammi... Però... Senza... Diciamo... Almeno... Da quanto ho letto... Non ho esperienze... Non ho contatti diretti con queste persone... Da quanto ho letto... Su questi forum... Non hanno avuto... Diciamo... Delle... Delle controindicazioni... Delle controindicazioni... Esatto... E la Valonia è andata via... La Valonia... Qualche casa andava via... Ma sempre molto lentamente... Sì... Lentamente... Cioè... Anche... Nei... Questi quattro anni... Ci sono stati... Almeno... Un paio di casi... Uno ha sovradosato... Ciro... Anche tu... Scusami... Lo provaste... Io lo provai... La Valonia... Praticamente... Esparì... Dopo 40 giorni... Però devo essere sincero... Io dopo 15 giorni... Non ho eseguito il cambio... L'ho fatto dopo 30 giorni... Ok... Però andata via... Non è... Non è ritornata più... Mi ricordate... La positiva... Sì... Io avevo la Valonia... Però non sovradosai... Io ho messo il dosaggio normale... 5 milligrammi... 5 milligrammi... 5 milligrammi... Però... Il cambio d'acqua... Lo feci dopo un mese... No... Infatti... Così fa il cambio d'acqua... La concentrazione... Però nel mio caso però... Devo essere sicile... Le Valonie... Cioè... Praticamente... C'è... Verde... Però poi... Man mano... Anche quelle poche... Praticamente nel corso dei mesi... Deperirono... E io sono stato... Cioè... Sono sparite le Valonie... Cioè... Non è che sono... Che c'è stata quella forma di aggressività... Occorsa come per la Briopsis... O per la Derbesia... No... Io ce l'avevo... Qualla volta... Me l'ha ammazzata lentamente... In questo caso... Però comunque ha stortito effetto... Ma abbiamo visto che... Anche con la Derbesia... E con la Biopsis... Ci sono purtroppo casi... In cui... Il farmaco sembra pallire... Questo per me è un po'... Come dire... Un mistero... Non ne riesco a spesso... Ma qualcuno poi dice... No... Attenzione... Non lo dosate con il DSB... C'è stata gente... Che l'ha dosata con il DSB... Non ha... Non lo dico... Con il DSB... Non da problemi... Ma infatti... Non lo... Scusate... Ma è una roccia viva... Alla fine... Non da problemi... Alle rocce viva... Perché dovrebbe darlo a un DSB... infatti infatti e quindi direi che secondo me l'utilizzo del fluconazzolo ha superato a pieni voti praticamente ma poi è un pochino come la pandemia no l'effetto dei vaccini cioè praticamente fa benefici e sono molti di più non c'è ma soprattutto nell'odinia si che ha fatto strage sono stati acquari giudissimi hai visto acquariofili con le lacrime negli occhi hanno perso 30 pisci hanno perso addirittura killes hanno perso gemmatum cioè tu praticamente cosa fai non lo usi il fluconazzolo come dicevo se all'epoca avevo avevo questo curativo io l'avrei usato senz'altro perché come ripeto ho perso più di una decina di pesci molto importanti anche quindi erano specie di valore era un valore molto importante quindi se all'epoca fosse stata conosciuta questo questo metodo io l'avrei senz'altro usato purtroppo nessuno ne parlava quindi non ho potuto sperimentarlo però buona sapersi per il futuro facendo le debite corno come dicevo prima era mai un farmaco testato è stata fatta esperienza Marco vedi un pochino tu Marco Gaboardi presenta la domanda io non credo non credo che sia collegato a questo momento comunque bisogna togliere il carbone per evitare l'assorbimento del farmaco sì questo sì sicuramente è fondamentale perché il carbone appunto è a bucordo quindi potrà il farmaco e allora è anche un'attività non è possibile che il farmaco abbia inibito lo skimmer io almeno durante la mia esperienza non ho notato questa cosa che lo skimmer si inibiva totalmente particolarmente è sempre andato bene anche se pensandosi potrebbe essere siccome non tutti utilizziamo lo stesso fatto nel senso che questo tipo d'anno, poi ci sono i generici, i generici sono tanti magari in qualche generico potrebbe essere qualche cliente e se i generici variano l'uno dall'altro tanto per la quantità dica poi di risultati ma anche per la composizione di risultato potrebbe essere sicuramente Giuseppe ti sentiamo un po' maveroso, la pulizia del suono deve migliorare non so come fare avvicinati meglio alla... stavo dicendo che come ci sono vari generici del suono potrebbe essere su qualsiasi generico qualsiasi cliente che possa andare ad inibire lo skimmer questo poi non lo possiamo esprimere pensandoci bene Vabbè magari può essere anche dal tipo di skimmer perché ci sono skimmer che magari basta che dosi qualcosa in basca come no, anche quello può essere Vabbè ragazzi non ci sono altre domande Esco no, un'altra domanda le resine antifosfati è obbligatorie durante il trattamento? Sì perché anche se i fosfati sono a zero all'inizio trattamento ovviamente col trattamento le alghe inizieranno a morire e quindi si liberano i fosfati man mano che le alghe leperiscono si liberano i fosfati quindi le resine andrebbero in sé Ok A posto Molto bene Daniele Una domanda che ti volevo fare sei riuscito subito a trovare la dose giusta della somministrazione? Perché penso che la cosa più difficile sia stata questa capire la giusta quantità per poter risolvere il problema Lì il discorso era fatto in galloni adesso non ricordo bene il dosaggio che lei aveva utilizzato però poi io vedendo anche un po' in letteratura più o meno come il farmaco agiva anche nei fluidi del corpo umano più o meno l'ho azzeccato subito nel senso che mi sono avuto conferme diciamo da quel dosaggio lì una felice intuizione di cui abbiamo beneficiato tutti noi acquariofili e non finirò mai di ringraziarti a mio nome e per conto di pallichi mania e se me lo consentite di tutti gli acquariofili d'Italia perché questo beneficio l'abbiamo avuto tutti anche se qualcuno e questo il dottor Giuseppe Assolengo mi potrà dare anche conferma che si presero l'articolo del dottore Giuseppe Assolengo pari pari di tossere il nome poi dite che poi faccio polemiche no ma come Bully mi definì a sta gente è vero o no? poi facciamo i discorsi ma il dottore Giuseppe Assolengo lasciate l'articolo ma è in realtà che al limite volete fare i simpatici facite le simpatici però non lo chiede il nome di qualcuno è scritto l'articolo perché è vero che su internet si diventa proprietari di tutte le notizie giusto o no? ma se il flugone azzola l'ha introdotto Giuseppe Assolengo c'ha da rimanere Giuseppe Assolengo sotto gli articoli o no? ti ricordi Giuseppe o no? come non mi ricordo come non mi ricordo capito o no? eh no capito o no? la gente le deve sapere queste cose quando sono miserabili chiaro o no? quando sono miserabili gli esseri umani chiaro o no? ah è perché la gente le deve sapere chiaro o no? detto questo che dici Giuseppe Assolengo si trova solo tramite ricetta la domanda che ti ha posto di Gianno non è che ti trova solo tramite ricetta allora il canale ufficiale per acquistare il profanazzolo è una ricetta medica o il medico vedete poi uno se lo può procurare in mille modi diversi magari non so non è che fa una vista questo lo fa in cui dipende da casa a casa il canale ufficiale è che è un farmaco che si dispensa dietro l'istruzione almeno in Italia tanto è vero che anche preparati quelli commerciali in Italia prima che non li vogliono non si tratta in un'ultima modifica ok Alberto chiede una curiosità se Giuseppe possiede un acquario allora sì possiedo un acquario di acqua di acqua dolce per motivi vari che non sto qui a spiegare l'acquario marino non riuscivo più a starci dietro quindi per questo l'acquario dolce ovviamente è tutta una cosa è facile e quindi è una questione di tempo non riesco attualmente a gestire la casa ok un'altra domanda quali sono le cose migliori da sapere per un perfetto dosaggio in vasca basta solo sapere l'effettivo ritraggio cioè il volume d'acqua che si ha e sottrarre il 10% per la rocciata il volume della vasca l'orda e poi fai più o meno in 10% si più o meno si base dipende alle rocce che hai te ne accorgi anche quando fai il cambio d'acqua magari che ne so togli 20 litri e più o meno vedi il livello quanto scende quindi 30 litri poi alla fine di quant'acqua in realtà hai quello è l'unico valore quantitativo quantitativo d'acqua che hai base quantitativo d'acqua che hai al volume totale ovviamente anche di samba e tutto fa esce per 5 mg per litro e quello è il dosaggio sentite prima che chiudiamo la live Ciro Cappiella vi ho promesso che ci facevi vedere il pesce dal vivo ce lo vuoi mostrare e infatti se lo fa vedere dal vivo ha la soddisfazione al dottore Ossolengo e a tutti quanti noi questo paziente mostra il paziente al dottore Ossolengo vediamo è un miracolo comunque è un miracolo come stava combinato ce lo facciamo a mettere in primo piano guardate la macchia nera vedete la macchia nera era al punto dove era diciamo così non c'aveva la c'era la carne viva era scavato c'era un avoraccio sta prendendo già colore in quella zona lì ah sta prendendo pure colore sta dimandando in ombro anche con l'atteggiamento si vede che sta in forma da come si muove cioè sono delle cose che danno giù al cuore una cosa che non si può descrivere uno come me che è malato sono cose che mi fanno ripetere mi rendo conto che dico sempre le stesse cose ma sono talmente contento quando questi momenti no che a parte il fatto lo stare assieme persone che voglio bene praticamente a Peppe che io giustamente per rispetto lo chiamo Giuseppe Assolenga ma a me è sempre a Peppino che e Peppi mi manda un tuo abbraccio comunque Peppi ti voglio tanto bene e tu lo sai che ci posso fare gli affetti si mescolano con la passione con il rapporto personale per esempio Ciro Capilla per esempio sta sempre nei miei buoni pensieri ci sentiamo parliamo è andato Ciro mi senti io ti sento ti sento per esempio per esempio l'amicizia pavo oltre non so per esempio noi siamo amici al di là dell'acquario no dei problemi si parla di lavoro si parla di lavoro cioè queste sono le cose belle e poi magari non lo so sono portato a dire qualche parola in più su questa parola in più qualcuno mi mette in croce però una cosa è certa non mi potete rubare la mia passione la passione non me la potete rubare questa ce l'ho qua chiaro e nessuno me la può rubare e probabilmente loro che mi conoscono bene hanno voluto sanno praticamente la mia passione e da che cosa sono animato i miei sentimenti e mi stanno vicino e probabilmente il Signore che Dio vede e provvede ha fatto sì che incontrassi pure finalmente delle persone giuste come Marco Massimo appunto Giuseppe perché Giuseppe ha avuto proprio un padre eterno che l'ha fatto con tra cioè ma che ti conti che cosa cioè se non ti incontravo quella mattina perché tu venivi da Caserta e tu ci andassi apposta cioè praticamente a Pulisci andavo da volta ogni tanto da Giovanni Cartognello e quando le cose devono succedere io andavo praticamente ecco gli italiani cioè il mondo degli acquariofili italiani non avrebbero beneficiato di questa questa diciamo scoperta e questo è quanto vabbè non parlo più ci teneva particolarmente a questo perché perché mi lega un affetto particolare con Giuseppe niente anche perché in effetti Giuseppe e Ciro Cappiello sono un poco come di Cortone è un bel caro e Ballinimani diciamo che Ballinimani è nata con loro poi dopo ci siamo evoluti sono subentrati pezzi da 90 come Loredana Massimo Daniele Massimo però quando eravamo ancora poca cosa se non era Giuseppe quella spinta propulsiva cioè la Ballinimani è praticamente perché parecchi gruppi nascono e muoiono no no ma forse grazie pure a Giuseppe poi Ballinimani ha avuto questa evoluzione questa crescita si è diversificata c'è stato questo passaparola perché effettivamente la gente ha cominciato a parlare di questo utilizzo e niente poi c'è stato il nostro Diggiano che ci ringrazia comunque grazie davvero per questo tipo che fanno sempre bene e fanno la nostra passione e noi ringraziamo anche te perché senza quelli come te alla fine non ci sarebbe non ci sarebbe come dirle è una motivazione niente per quando Giuseppe io ti abbraccio virtualmente forte forte lo sai che ti voglio un mondo di bene tengo tanta gradazione faccio la parola agli amministratori se poi ci sono dovevi aggiungere qualcosa Ciro gli do un bacio poi Ciro ci sentiamo sempre per telefono e niente Massimo vuoi concludere tu Loretano vedete voi Marco dai fai la chiusura fai la chiusura tu sei il più esperto per queste cose noi siamo di poche parole io Loretano è stata una serata molto istruttiva e piacevole passata proprio fra amici che diciamo hanno in comune la passione per l'acquario marino o acquario in generale ecco oggi la definisco più acquariofilia quindi un grandissimo abbraccio a Dottor Giuseppe Solengo un grande ringraziamento a Ciro Capiello per la sua testimonianza e ovviamente anche a tutti gli altri membri dello staff che permettano questo tipo di live e di trascorrere queste piacevoli mesi insieme quindi con questo chiudo e buona serata weekend a tutti buonasera a tutti buonasera a tutti buonasera buonasera a tutti buonasera a tutti